Grazie a tutti Continua su ST2.2 per un chilometro e mezzo Eh bambina già Ah è una piccola No Piccola piccola No Piccolissima Oh mi raccomando prima si mette bene la crema Poi si fa bagno Il pontichello lele No fasi zitti un secondo Adesso dobbiamo attraversare un ponte molto particolare 500 metri La tua destinazione si troverà sulla destra E' il ponte delle barche Vuol dire che guardate qua E' appoggiato sulle barche Tutto di legno E qua ci sono le barche che spuntano E siamo sul Ticino Che qua ci sono tutti i sassolini Però Però lì Siamo sopra il fiume Ma questa è la fiume Stiamo attraversando il fiume Stiamo attraversando il Ticino Che carino E questo si chiama il ponte delle barche Mamma mia Papà Aiuto La fa saltare su e giù Bravo papi Fa la saltare Qua? No no di là di là Cos'è il celato? No io non lo vedo Uno di celato? Io normale Senza alcol Uno normale Ok 2,70 C'è qualche aggiunta? No 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 Dammi quel mio telefono Ma hai messo anche il caffè qua? Ah ok Sì sì L'ho shakerato Quello è anche il Ok L'aspetto qua? Il caffè? Ma anche il caffè Eh il caffè normale Infatti ti ho chiesto per quello Ah no io ho messo Non tu uno shakerato Ah no io volevo anche uno normale No scusami No allora è 1,10 Per questo No per quello ti avevo chiesto Che mi sembrava poco Mi sembrava poco No perché hai messo anche il caffè Poi stavo dentro Lo shakerato Sì sì di normale 1,10 Scusami 2,70 Grazie Grazie No non mi serve Grazie Mio amore si è preso un caffè shakerato Mi faceva schifo L'ha pagato anche 2,70 euro Che faceva schifo Non è che faceva schifo Non c'era dentro niente L'ha appena maniata la bocca Però ha messo il ghiaccio Quando ha shakerato No non ha shakerato L'ho usato come un po' Rullatore Sì Allora non lo sanno fare Il mio dio Cioè sarà bene A mai sì A mai sì Che fai Che fai Ma A mai sì Adesso andiamo a fare il picnic che dobbiamo pranzare e abbiamo qua la compagnia. Questo vuol dire stare vicino alla lavatura. Ecco ci mettiamo qua. Ecco che cosa ci siamo portati da casa. Ci siamo portati prosciutto crudo con melone, un po' di insalata, grissini, del pane. Ci siamo fermati stamattina a prendere anche il pane fresco. Questo c'è tutto, dentro sedano, formaggio, c'è tutto. Ah qua c'è di tutto? Anche formaggio? Cipolla, zucchine, certo. Cavolo. Mio marito è stato così bravo stamattina che ha preparato tutto questo. Come sempre. Poi abbiamo anche la frutta, che è papaya e le ciliegie. Ma sul gambo. E poi abbiamo anche delle brioche. E poi abbiamo anche delle brioche. Non si è visto? Avevi la mano davanti. Vai tu? Vai, 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 vai. Eccoci qua! Aspetta, voglio fare una cosa. Dammi, dammi, dammela. Ho fatto la linguaggia! Ho fatto la linguaggia! Vai, hai freddo un po'. Ah! Ora alla fine si vuole! Velo? Velo! E' un po' di trovelo? Che cosa fa l'odore? Che cosa fa l'odore? Che cosa fa! Che cosa ha fatto! Che cosa ha fatto! Alla! Che cosa ha fatto! E' un po' di trovi! Grazie.